Il linguaggio della speranza è bussare alle porte di Dio, che è padre e può salvarci, vincere i nostri timori e non mettere mai condizioni al Signore. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale in Aula Paolo VI, dedicata ancora alla speranza cristiana e alla figura biblica di Giuditta, donna coraggiosa che dà speranza al popolo. Con la forza di un profeta, ha detto il Papa, questa vedova bella e saggia della città di Betulia, richiama con forza gli uomini del suo popolo ormai disperati per l'assedio delle tuppe persiane di Oloferne, per riportarli alla fiducia in Dio. Il Signore è Dio di salvezza, ricorda, e con cittadini che avevano dato cinque giorni di tempo a Dio per salvarli, perché è salvezza liberare dai nemici, ma nei suoi piani impenetrabili può essere salvezza anche e consegnare alla morte. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la sua salvezza e il suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità, ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri. Alla fine Dio salva la città proprio per mano di Giuditta che riesce ad uccidere Oloferne, ma il cammino che questa donna coraggiosa ci indica è quello della fiducia e dell'obbedienza, l'atteggiamento di fede di chi tutto accetta dalla mano di Dio, sicura della sua bontà.